Sempre più di moda, colorati o full black, tribali o figurativi, i tatuaggi sono ormai un must che parla tutte le lingue ed è difficile fermarsi al primo, ma siamo certi di ciò che ci viene iniettato sotto pelle e che resterà con noi per sempre, sulla sua qualità e sicurezza? Parrebbe di no. Dopo lo scandalo nei giorni scorsi dai farmaci ritirati dal commercio perché contenenti una sostanza potenzialmente cancerogena, ora tocca agli inchiostri, tinture e pigmenti per tatuaggi. Un inquietante indagine condotta a livello nazionale dal comando dei Carabinieri per la tutela della salute insieme al Ministero della Salute sulla regolarità e l'innocuità dei prodotti a base di inchiostro utilizzati per i tatuaggi dai produttori agli utilizzatori finali per un totale di 117 aziende controllate, ha rilevato 22 campioni non in regola per la presenza, sopra i limiti di legge, di sostanze chimiche quali ammine aromatiche e idrocarburi policiclici aromatici considerate potenzialmente tossiche e cancerogene. Scattato così l'obbligo da parte del Ministero della Salute di non utilizzare più e ritirare dal commercio i prodotti risultati pericolosi. Non solo, si dovrà risalire cliente per cliente a tutti coloro che potrebbero portare sul proprio corpo inchiostri e colori incriminati con qualsiasi mezzo specifica il Ministero. 31 inoltre le infrazioni di esercizi commerciali e di centri di tatuaggi carenti delle autorizzazioni dei locali o degli attestati di formazione degli operatori, detenzione di prodotti privi di etichettatura o contenenti sostanze di inchiostri non idonei e privi delle necessarie garanzie di sicurezza. In totale sono state sequestrate 248 confezioni di tinture e pigmenti. Insomma, tatuarsi sarà bello, ma prestando sempre la massima attenzione prima di tutto alla propria salute.